Ciao a tutti, il Festival di Sanremo è finito nelle polemiche, polemiche innescate da una giornalista, Maria Giovanna Maglie, secondo cui ci sarebbe stato un complotto per far vincere la canzone di un immigrato, canzone peraltro contenente anche tutta una frase misteriosa in arabo, insinuava lei con un pezzo dell'altro giorno. Ebbene, non voglio entrare nel merito della canzone, nel senso che per me magari ce n'erano delle altre più meritevoli, ma diventa tutto molto soggettivo. Ma io vorrei capire, quelli che criticano questo ragazzo e questa canzone, l'hanno ascoltata, hanno capito di che si trattava. È una canzone di questo ragazzo, il cui padre è egiziano, praticamente contro il padre, è un'invettiva contro il padre. E le parole in arabo della canzone, che adesso sentiremo insieme, eccole qui. Avete visto il bambino? Era lui, nel video si vede proprio lui da piccolo col padre, e il padre gli dice, che significa, bambino mio, bambino mio, vieni qui, ti voglio bene. Quindi lui ripete le parole del padre, fondamentalmente, e per poi, sentite il resto della canzone, scagliarci si contro. Lo stesso ritornello, come va, come va, che mi chiedi come va quando lo sai benissimo come sto, praticamente, insomma. Quindi, una canzone di protesta. Può anche non piacere, ma è una canzone di protesta intergenerazionale. E non è interraziale, nel senso che non ha nulla a che fare col fatto che il ragazzo è figlio di un egiziano. Il padre poteva essere pure italiano. Una canzone di protesta. Allora, io, a questo punto, dico, Maria Giovanna, tu stai per diventare una giornalista importante che va a fare la striscia di commento dopo il Tg1. Spero che ti documenti un po' meglio prima di partire a testa bassa con una crociata come questa, perché non ci hai fatto una bella figura, e se continui così, continuerai a non fare una bella figura, ma soprattutto non farà una bella figura quella Rai 1, che è l'ammiraglia della nostra televisione pubblica pagata con i soldi di tutti. Grazie per l'ascolto e a presto.